Timbaktou, piccolo essere, dimmi, sai cosa tengo in mano? Con la mia invenzione posso aumentare la temperatura fino a 2000 gradi. Certo, ho capito. Aumenterai la temperatura in tutta la città e inizierai a vendere tanti climatizzatori. Ma capo, capo, io invece venderò il gelato perché a me piacciono i gelati. Fai zitto sotto specie di zecca. Lo posizionerò sotto il vulcano della città così farò in modo che esploda. Per farlo è necessario che si raggiunga una temperatura massima di 1100 gradi. Aumenterò la temperatura a 2000 gradi così che il vulcano esploderà. E in questo meraviglioso giorno tutti dovranno inchinarsi davanti a me, il genio del male. In questo modo l'intera città verrà distrutta insieme a Veer. Miau! Sei un genio, capo. Un super genio del male. Ha ragione, capo. Lei ha ragione. Guarda, questo è il vulcano che si trova dietro la città. Devi entrare in questo tunnel e posizionare lì la mia splendida invenzione. Oh, ma capo! Il caldo qui sta aumentando! Immagino che il condizionatore non funzioni. Capo, non ci sono problemi con il condizionatore. Anche il nostro rifugio si trova all'interno di un vulcano. Quindi se il nostro vulcano esploderà, ciò dimostrerà che la tua invenzione è perfetta. Ci ho pensato e ho acceso il dispositivo di riscaldamento. Che cosa hai fatto? Team Barton! Team Barton! Hai acceso il dispositivo dopo averlo posizionato sotto il vulcano? L'ho acceso, capo. Che cosa pensi? Sai che non commetto mai errori. Non sono mica stupido. E' arrivato il mio turno. Che mi ha colpito? Che mi ha colpito? Sto giocando! Oh, il vulcano sta eruttando! Guardate, i detriti escono dal vulcano! Oh no, se il vulcano esploderà, l'intera città verrà distrutta! Scapperò subito da qui! Andiamo via, moglie mia! Scappiamo! Via! Andiamo! Jintù, intervieni. Ferma l'eruzione del vulcano. Guarda là! Il vulcano è stato incartato da qualcuno! Che magia è questa? Jintù, annulla la tua magia! Riporta tutta la normalità come prima! Ma... non sei mai soddisfatto del mio lavoro? Eppure l'ho confezionato così bene! Devo andare a controllare come mai questo vulcano ha iniziato a eruttare. Da migliaia di anni nessun vulcano ha avuto segni di risveglio in questa zona. Vado a indagare. Vir, stai attento! Rubber Boy suit on! Rubber Boy suit on! Rubber Boy suit on! Raggi X vision on! Raggi X vision on! Da da G ho individuato la presenza di un piccolo oggetto dentro al vulcano. Ti trasmetto la sua immagine e le coordinate. Vir! Questo strumento aumenta la temperatura all'interno del vulcano! Dietro a tutto questo c'è Mad Max! Muoviti e esci subito di lì! Ah! 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 Winston autobus non riesce a partire! Fai uscire velocemente i bambini! Fagli uscire! Lascia l'autobus e scappa! Guarda! Una roccia gigante per cadere su l'autobus! Guarda! 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 Ah... Brava, Roboboy! Evviva Roboboy! Dadaji, farò un buco. Creerò un passaggio ed entrerò nel vulcano. Ok, Vir. Chulvul, andiamo anche noi ad aiutare Vir. Corri! Trivella sud ol! Trivella sud ol! Oggi è l'ultimo giorno della tua vita! Capo, capo, aumenta al massimo la temperatura della tua invenzione. Finalmente Vir sarà spacciato. La temperatura aumenta lentamente. Per farlo c'è solo un'opzione. Dobbiamo distruggerlo. Ma capo, come farà a esplodere? Tim McToon. Prendi questo e attraversa il nostro tunnel segreto con il mio robot. Posizionalo accanto al dispositivo di riscaldamento e accendilo con il telecomando. Dopo che sei uscito dal tunnel, il vulcano esploderà. E insieme ad esso anche Vir esploderà! Hummel, io vado avanti! Tu seguimi! Birr! 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 Perché sei venuto qui? Vai via! La strada per uscire è chiusa Tieni d'occhio la situazione Vado a tribellare Birr! Fallo in fretta! La temperatura sta aumentando L'ago si sta muovendo verso il segnale di pericolo Oggi Nessuno può salvare Birr! Ciao, ciao! Dove sei andato, Birr? Wow! Come sei riuscita ad uscire? Chiedilo al vulcano che mi sta arrostendo Birr! Esci subito dal vulcano! Non puoi fare più nulla! L'ago ha raggiunto il limite del pericolo Esci immediatamente! No, Dadaji! Adesso non posso uscire da qui Devo compiere la mia missione Se il vulcano esplode Siamo tutti in pericolo Devo tentare fino all'ultimo secondo Ci riuscirò! Robo bison art! Robo bison art! Robo bison art! Oh! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Che sensazione di soldievo! No! Questo non può succedere! Il mio piano era perfetto! Vir, prima o poi ti distruggerò! Questo tunnel deve condurre sicuramente sotto il... Vir! Tutto è bene quel che finisce bene! Sì, hai ragione, Millie! Dai, andiamo! Grazie per la visione!